Nicola Molteni, i numeri per quanto riguarda l'immigrazione durante il governo Letta sono impressionanti? I numeri confermano il totale fallimento del governo Letta in materia di lotta all'immigrazione clandestina e in materia di sicurezza. I numeri dicono che oggi noi abbiamo 40.000 immigrati sbarcati sulle nostre coste, 450 sbarchi, sono stati chiusi 6 cie su 12, non sono stati fatti respingimenti e sono stati tolti, azzerati i fondi per le espulsioni e per i rimpatri, meno 90 milioni di euro. Il capo della polizia dice che nel 2014 avremo 15.000 poliziotti meno per i tagli del governo Letta e non verranno stanziate nuove risorse. La situazione è preoccupante, nei nostri territori abbiamo il numero dei furti nelle abitazioni, il numero delle rapine, il numero dei reati predatori, il netto aumento, i cittadini hanno paura, i sindaci non riescono a fronteggiare questa ondata di delinquenza imperante e le forze dell'ordine fanno il possibile ma non hanno mezzi e risorse. Chiediamo, e lo chiederemo nella legge di stabilità, più risorse per la polizia nazionale, più risorse per le forze dell'ordine, più risorse per i sindaci. Il governo Letta è il governo degli immigrati e dei clandestini e si sta disinteressando della sicurezza dei nostri cittadini.